Assessore, oggi a Prato si inaugurano 21 nuovi bus di CAP per il trasporto extraurbano, un ulteriore effetto positivo del contratto ponte. Esattamente così, il contratto ponte mostra i suoi effetti positivi, questi 21 mezzi nuovi che sono mezzi assolutamente moderni, confortevoli, che garantiscono maggiore sicurezza, che faranno servizio nelle linee extraurbane del Pratese, sono il frutto di questo contratto che la Regione ha firmato con Scala One, di cui anche CAP fa parte. Sono oltre 2.000 i mezzi che dovranno essere forniti dal futuro vincitore della gara, ma nel frattempo con questo contratto ponte da qui al prossimo anno ne arriveranno 420. Quindi questa è la dimostrazione anche che l'adeguamento tariffario, che pur siamo stati costretti a fare, è un aumento che da una parte serve e dall'altra corrisponde ad un miglioramento, ad un adeguamento del servizio. La Toscana sta puntando molto sul trasporto pubblico locale, sia su ferro che su gomma, una maggiore integrazione. In questo caso gli investimenti che vanno al ringiovanimento della flotta, portandoci addirittura a standard migliori di quelli che abbiamo in Europa, sono una dimostrazione che la strada che stiamo perseguendo è quella giusta e penso che gli utenti potranno apprezzare un modo di viaggiare che effettivamente sarà molto più qualificato anche attraverso questi nuovi mezzi, anche attraverso questi investimenti che il contratto consente.